massima sicurezza qui a downy street appena arrivato il presidente americano biden tappeto rosso per la prima volta per il presidente americano che viene qui anche per consolidare la relazione tra UK e Stati Uniti non solo ma come sapete per tradizione il presidente americano non era stato all'incoronazione del re Carlo III è un momento anche per recuperare questa situazione la presenza del presidente degli Stati Uniti qui a Londra è importante come ho detto per consolidare non solo i rapporti UK-US ma anche per parlare di Ucraina perché come sapete le due grandi nazioni si sono messe in alleanza per cercare di porre fine alla guerra in Ucraina tra poco usciranno quindi noi siamo qui come vedete con tutta la stampa c'è anche la stampa ovviamente americana e cercheremo di raccontare in radio e live in video tutto quello che si può raccontare in questa giornata